Buongiorno FTI Online, ritorno in positivo per la borsa, il Fuzzimib infatti aveva iniziato leggermente al di sotto dei livelli di chiusura di ieri, in questo momento è in sostanziale parità. Vediamo che i minimi di seduta si sono appoggiati su quelli della giornata precedente, c'è però anche da considerare che siamo in prossimità di una resistenza molto importante, quella di area 21.100 che corrisponde ai massimi di luglio senza il superamento di quei livelli che poi coincidono con il 61.8% di retracement del ribasso dal massimo di inizio anno, il rischio che questa prolungata fase di rialzo possa essere verso le battute finali resta elevato. Avevo già segnalato in passato la presenza di questi tre gap che sono stati lasciati nel corso del rialzo, molto spesso la comparsa di tre gap in questa forma è il segnale che il movimento è in via di conclusione. Se andiamo a guardare il Dow Jones ci accorgiamo che nelle ultime tre sedute, questa è la giornata di oggi, stiamo guardando il future, nelle tre sedute precedenti si è disegnata questa figura con le candele, una Evening Doji Star che potrebbe essere anche in questo caso il segnale dell'avvio di una fase di bassista. Si tratta di un pattern dalle implicazioni negative, ovviamente come sempre quando parliamo di candele giapponesi la figura viene confermata solo con la violazione della base, quindi solo se dovessero scendere sotto 28.8,70 che è il minimo della seduta di martedì avremo una conferma negativa, in quel caso il rischio di rientro all'interno di questa fase laterale che era partita dai massimi di settembre. Infine un'occhiata al DAX, anche sul DAX abbiamo una situazione di distribuzione che ormai è in atto da tre sedute, anche il DAX questa mattina con i minimi che ha toccato intorno ai 13.000 punti si è appoggiato su quelli di ieri per poi cercare un rimbalzo, siamo qui ancora una volta sotto i minimi di luglio che è una resistenza molto importante, avete stata toccata anche a settembre in alcune occasioni, ma tutte le volte che i prezzi sono arrivati su quei livelli c'è stato poi uno storno abbastanza deciso, quindi fino a che non passeremo sopra dei massimi di luglio resta il rischio anche qui di vedere una correzione stesa della ultima fase rialzista, come abbiamo detto per il Fuzzimib. Ci occupiamo oggi di alcuni titoli che stanno andando molto bene a Piazza Affari, guardiamo le motivazioni, guarderemo Unipol Sai per la quale Kepler ha confermato la raccomandazione buy con prezzo obiettivo a 2,80€, Unipol sempre dello stesso broker ha confermato il giudizio buy e il prezzo obiettivo a 6,35€. Dopo i risultati del trimestre definiti molto forti l'outlook resta brillante, Fincantieri ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari a 1,165 milioni, l'EBIT è di 81 milioni e i risultati evidenziano, secondo la società, una produzione ripresa sostanzialmente in linea con quella anti-Covid 2019. Bene anche Esprinet nel terzo trimestre 2020 ha totalizzato ricavi per 1,1 miliardo, la crescita è stata del 26% su base annua e l'utile netto sale a 9,8 milioni, da 1,8 milioni del corrispondente periodo del 2019. Infine T-nexta che ha presentato i risultati al 30 settembre, i ricavi sono in progresso del 4,3% su base annua e l'utile netto è in crescita addirittura del 37,8% sempre su base annua. Iniziamo proprio da T-nexta che questa mattina sale del 5% circa, siamo a 20,85 euro, si sta delineando questa figura di forma triangolare che potrebbe essere anche un pennant, il superamento del lato alto del pennant, quindi di questa figura di continuazione della tendenza rialzista precedente è posizionato intorno ai 21,30 euro. In caso di superamento di quei livelli avremo un segnale di forza molto incoraggiante, come dicevamo sarebbe possibile considerare ripreso l'uptrend che abbiamo visto dai mini di marzo, un uptrend che è contenuto all'interno di questo canale, il primo livello di target sarebbe il lato alto del canale che passa a 22,90 euro, quindi al di sopra di aria 21,40 e 21,50 avremmo un target vicino ai 23 euro. Guardiamo adesso Esprint che questa mattina ha fatto un notevole balzo in avanti, siamo adesso intorno agli 8,70 euro, vedete la resistenza chiave era questa degli 8 euro, quindi abbondantemente superata. Abbiamo adesso come riferimento il massimo del 2015 che si posiziona intorno ai 10,50 euro, essendo stati superati tutti i ritracciamenti principali del movimento visto da quel ribasso, vedete l'ultimo era il 7,50, il 61,8% del ribasso precedente, c'è spazio appunto per puntare in questa fase al test di aria 10,50, la prima resistenza ovviamente è questa forte area orizzontale che si posiziona intorno agli 8,80 euro, quindi se il titolo troverà la forza per scardinare aria 8,80 c'è spazio per salire fino a 10,50. Guardiamo il target del doppio minimo che si era disegnato tra 2019 e 2020 dove ci proietta, prendiamo quindi l'ampiezza della figura e la proiettiamo appunto dalla rottura, il target della figura più o meno coincide con quest'area di resistenza orizzontale, quindi si conferma l'importanza di area 8,80 nel caso i prezzi si dovesse scontrare con quei livelli, quindi probabilmente nel breve termine, visto il movimento molto forte che c'è stato nell'ultima ora e con la seduta di oggi, meglio evitare di salire sul movimento in corso ma aspettare la rottura di 8,80 prima di prendere nuove posizioni a rialzo. Fincantieri è in una situazione positiva, questa mattina vale 0,59,40, ieri aveva toccato un massimo a 0,60,70, probabilmente è meglio attendere il superamento anche di quei livelli per avere una conferma della possibilità di un'estensione del rimbalzo, in termini di target direi che ci si può aspettare la ricopertura di questo gap che praticamente coincide con il 50% di retracement della discesa dal massimo di maggio, la resistenza per la precisione si posiziona a 0,67, quindi al superamento di area 0,60 e 70 spazio fino a 0,67, quindi un ulteriore 10% circa di margine di crescita. Guardiamo infine fondiari Unipolsai e Unipolsai, entrambe in crescita, su Unipolsai abbiamo un aumento dell'1,38% a 2,20€, una crescita leggermente superiore era registrata poco fa per Unipolsai, oltre a guardare l'analisi dei singoli titoli, voglio iniziare facendo un confronto tra i due, quindi se mettiamo a confronto i due grafici ci accorgiamo che al di là delle variazioni di scala sono sostanzialmente sovrapponibili come andamento, quindi vedete i due grafici hanno un andamento estremamente simile, la cosa interessante in questo momento forse è quella di valutare l'andamento della forza relativa per capire se ce n'è uno dei due che sovraperforma l'altro. Questo è il grafico di forza relativa che lega Unipolsai con Unipolsai, quindi quando la curva della forza relativa sale vuol dire che Unipols sta sovraperformando Unipolsai, viceversa quando la curva scende, mi sembra evidente notare che l'andamento del grafico è sostanzialmente simile a quello che abbiamo, il grafico di forza relativa è sostanzialmente simile a quello che abbiamo nel grafico dei prezzi, adesso ve li ho sovrapposti, vedete hanno un andamento molto simile, da questa similitudine che cosa si può ricavare? Che tendenzialmente Unipolsai sovraperforma Unipolsai nelle fasi in cui entrambi salgono, mentre tende a sottoperformare Unipolsai quando entrambi scendono, se in questa fase come sembra potrebbe esserci una situazione positiva legata anche al segnale che stanno dando oggi i prezzi, potrebbe essere questa la situazione in cui è corretto privilegiare acquisti su Unipolsai piuttosto che su Unipolsai. Se Unipolsai dovesse confermarsi in chiusura di seduta al di sopra di questa resistenza che è il 50% di trasparente del ribasso dal massimo di fine agosto, quindi la resistenza per la precisione a 3,63, in quel caso avremo una buona prospettiva di crescita per Unipolsai che potrebbe anche puntare al ritorno sui massimi di quest'estate, quindi in area 4,20 e quindi sarebbe una situazione, in base a quello che abbiamo detto sulla forza relativa, sulla quale conviene forse scommettere su Unipolsai piuttosto che su fondi di area su Unipolsai. Il quadro grafico per Unipolsai è abbastanza simile, anche qui siamo in prossimità del 50% di trasparente, se dovesse essere superata in chiusura di seduta questa resistenza che vale 2,20, quindi esattamente dove sono le quotazioni adesso, in quel caso ovviamente avremo un segnale di forza anche su Unipolsai che potrebbe prospettare il raggiungimento di area 2,50 e quindi ha senso sicuramente anche comprare il titolo in quanto tale, ma visto il ragionamento che abbiamo fatto sulla forza relativa forse varrebbe la pena di sovrappesare Unipolsai piuttosto che Unipolsai in portafoglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a lunedì con il nostro consueto commento giornaliero.